Il titolo del video di oggi è Saper stare al mondo, che è una qualità importante sia per i singoli che per le collettività. Saper stare al mondo, a mio parere, significa innanzitutto prendere coscienza dei vincoli che sono dati, quindi immutabili salvo grandi sforzi e possibilmente molto tempo, e i vincoli che abbiamo scelto di darci. Per fare un esempio, io sono nato in una famiglia di impiegati statali, e questo era un dato di fatto, non ero nato nella famiglia dei Colonna. Molti anni più tardi, quando vivevo a Bologna, decisi di tornare al paesello natio, e questo è un esempio di un vincolo che mi sono scelto. Ogni vincolo impone dei limiti, ma offre in cambio qualcosa. Lasciando Bologna, sapevo che avrei dovuto rinunciare alle comodità della vita cittadina, ma, tornando al paese, non avrei dovuto continuare a lavorare ai ritmi precedenti, cosa di cui ero stufo, e inoltre mi sarebbe stato più facile costruire e difendere una mia identità sociale che mi strappasse all'anonimato della vita metropolitana. Anche per una collettività come quella italiana, la cui classe dominante, che chiamo Borghesia Cotoniera, ha scelto di aderire all'euro e all'Unione Europea, da ciò discendono sia limiti che opportunità. Eppure, quando se ne è cominciato a parlare, quando cioè si è sviluppato un discorso pubblico sufficientemente ampio da poterlo considerare politicamente rilevante, noi eravamo nell'euro da almeno 12 anni. Vorrei citare un brano di una chat di un mio amico, il quale scrive «Nell'Italia piegata dalla grande crisi del 2007-2009, fine di Berlusconi e cura del governo Monti, i cui effetti furono anticipati da Bagnai nel primo famosissimo post di Guffinomics, i salvataggi che non ci salveranno, erano tante le persone in difficoltà economica e in crisi di identità politica. C'era bisogno di risposte e spiegazioni, ma anche di giustificazioni e di ricette miracolose. Dare la colpa di ogni cosa all'euro e presentare l'uscita dall'euro come la soluzione di tutti i problemi rispondeva a questa necessità». Ecco, io sono d'accordo con questa diagnosi e per questa ragione penso che sia necessario riaprire una riflessione sull'euro e l'Unione Europea. Vedete, nella vita sono importanti anche le utopie, che sono spesso irraggiungibili nel breve orizzonte della nostra vita, ma è bene domandarsi sempre se si tratta di utopie ragionevoli o di sogni infantili. Ad esempio, l'utopia di un'Italia più indipendente è, spero, ragionevole, mentre sono certo che non lo sia quella di un paese che, chiudendosi alla concorrenza internazionale, potrebbe vivere al sicuro sia pure al prezzo di consumi individuali e collettivi molto più sobri. Il commercio internazionale esiste, è utile prendervi parte, ma deve essere chiaro che non abbiamo la forza per imporre noi le regole del gioco. Sottrarsi ad esso o pretendere di commerciare alle nostre regole, quali che siano, è rispettivamente dannoso e in gran parte impossibile. Pertanto, l'essere entrati nel mercato unico non è detto che ci abbia danneggiati, e questa è una delle questioni su cui si dovrebbe tornare a riflettere. Quanto all'euro, ebbene questo è un vincolo che ci siamo scelti, per meglio dire scelto e imposto alla nazione dalla sua borghesia dominante. Come sapete, io respingo la tesi secondo cui saremmo stati costretti a entrare nell'euro da forze esterne. Al contrario, sono convinto che questo è avvenuto perché lo voleva fortissimamente una parte della nostra borghesia dominante, che, per raggiungere questo scopo, non esitò a scuotere il paese dalle fondamenta, dando avvio a una breve ma intensa guerra civile, passata alla storia col nome di Tangentopoli. Ad eccezione delle fasce più ideologizzate, la mia generazione era convintamente europeista. Vi era la diffusa percezione della necessità di porre un limite a comportamenti e abitudini sbagliati, in cui mi ero imbattuto io stesso in prima persona in differenti occasioni e di cui spero un giorno di parlarvi. E credetemi, vi racconterò cose incredibili. Entrando nell'euro, noi abbiamo goduto di tre vantaggi di cui tener conto. Essi sono Un cambio non penalizzante, che inglobava, in gran parte, la forte svalutazione del 1992, quindi preservando la nostra competitività commerciale. Due, la prospettiva, poi verificatasi, di un forte calo degli interessi sul debito pubblico, e non solo. Tre, la necessità, questo sì il vero vincolo esterno, di ammodernare e rendere più efficiente la struttura economica del paese. Ebbene, deve essere chiaro che, quando siamo entrati nel 1999, sapevamo già dal 1992 che questa sarebbe stata la data. Eppure, quali sono state le uniche cose di cui è stata capace la nostra borghesia cotoniera? E' presto detto privatizzare e colpire pensioni e salari. Sulle privatizzazioni è bene chiarire che queste non sono imposte dai trattati, per cui la scelta di privare lo Stato di una fonte di introiti, proprio quando ci si apprestava ad entrare in un sistema in cui non sarebbe più stato possibile il libero finanziamento a deficit, è stata una scelta folle. Quanto alla compressione dei salari e ai tagli al sistema pensionistico, questa scelta economica, indubbiamente dolorosa, sarebbe stata accettabile solo a patto di destinare i risparmi così ottenuti ad investimenti, quello che gli economisti chiamano spostare le risorse dai consumi agli investimenti, ma ciò non è avvenuto. Al contrario, abbiamo assistito all'esplodere di ulteriori oneri per lo Stato, legati a un'infinità di altri centri di spesa, realizzando così un semplice trasferimento dei consumi dalle fasce più povere a quelle più ricche. In pratica, per essere concisi, coi tagli al mio salario sono stati ben retribuiti i figli di papà della classe dominante di medio-alto livello. Il risultato di tutto ciò è che oggi famiglie e imprese pagano a caro prezzo servizi essenziali gestiti da società private in attivo, acqua, energia, energia elettrica, telecomunicazioni, autostrade, senza che i profitti che prima incassava lo Stato costituiscano entrate per il bilancio statale, e anzi consentendo a tali gruppi privati una elevata possibilità di elusione. Nel mentre, per coprire le voragini così create, si spreme sempre di più il mondo del lavoro e delle piccole imprese. La borghesia cotoniera ha dimostrato di non essere classe dirigente, avendo come unico orizzonte la trasformazione del paese in una proprietà privata a sua completa disposizione, una specie di grande candiland dove si lavora solo per esportare, al fine di reperire le risorse necessarie al mantenimento dello stile di vita lussuoso di una minoranza servita e riverita da un popolo di camerieri. Quando la Germania nel 2003 fece le riforme ARS IV erano già passati dieci anni, un tempo sufficiente per preparare il paese alla sfida che la borghesia cotoniera aveva accettato, ma nulla era stato fatto se non colpire i salari e le pensioni dei lavoratori, oltre a privatizzare tutto il possibile. Cosa avrebbe dovuto fare la Germania? Farci il grazioso favore di assecondarci quando lo scopo evidente della moneta unica era quello, accettato dalla nostra borghesia cotoniera, di giocare da professionisti nella competizione globale? E perché? Certo, l'alternativa era quella di conservare la lira, sia pure entrando nel mercato unico o forse no, ma anche così ci saremmo trovati davanti a un bivio. diventare i pirati d'Europa continuando a galleggiare e manipolando il cambio, con l'ovvia conseguenza di provocare le pesanti ritorzioni dei nostri partner commerciali, oppure diventare in ogni caso un paese serio, senza fare le privatizzazioni e destinando le risorse della compressione salariale e dei sacrifici dei pensionati a investimenti produttivi, ma questo alla borghesia cotoniera non sarebbe piaciuto. Vedete dunque che imputare solo al cambio fisso, cioè all'euro, la causa del disastro italiano, serve solo ad occultare le vere responsabilità politiche. E dunque ha ragione chi sostiene che è inutile uscire dall'euro senza aver prima regolato i conti con la borghesia cotoniera, questa coalizione di forze economiche e politiche incapace di farsi classe dirigente. Non farlo significherà che quando l'euro imploderà, come è probabile che avvenga, questa parodia di classe dirigente porrà in essere quella che a un tempo veniva chiamata uscita da destra. E allora vi diranno benvenuti a Candyland, signori. Perché non vi accomodate e ci beviamo qualcosa di fresco? Avanti! Magari, mentre discutiamo d'affari, potreste mettere una delle vostre amabili creature nere di scorta al nostro Django per girare le vostre terre. Oh, certamente. Bettina! Mi orsi, Big Daddy? Eh, come si chiama il vostro Jimmy? Django. Django. Bettina, dolcezza, ora tu prendi Django e gli fai vedere le terre con tutte le sue beltà. Come ti pare, Big Daddy? Ah, Mr. Bennett, devo ramentarvi che Django è un uomo libero, non si può trattare come uno schiavo e entro i limiti del buon gusto va trattato come un'estensione della mia persona. Ho capito, Schultz. Bettina, dolcezza? Sì, padrone. Django non è uno schiavo. Django è un uomo libero, lo capisci? Non si può trattare come tutti gli altri negri di qui perché non è come tutti gli altri negri di qui, è chiaro? Tu vuoi che lo tratto come uomo bianco? No. Questo io non l'ho detto. Allora non so che vuoi, Big Daddy. Sì. Sì, lo vedo. Come si chiama quel giovanottello ignorante che lavora il vetro? La mamma sta al deposito di legname. Oh, voi dite Jerry. Ecco com'era il nome Jerry. Conosci Jerry, no, dolcezza? New York, sì, Big Daddy. Allora è fatta. Trattalo come tratti Jerry. Sì, però... Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Grazie.